Era una storia molto amara, terribile, terribile. Io non so tu cosa senti, la prima volta che ti sei sentita. No, io la prima volta che l'ho sentita ho provato commozione profondissima per queste due donne, una solidarietà fortissima di pancia proprio per loro e poi un'indignazione fortissima per quello che ho visto nei confronti dei tuoi giornalisti, dei tuoi inviati nelle piazze, nelle strade di Mezzo Iuso quando loro andavano a chiedere determinate cose e sembrava che nessuno ne sapesse nulla. Ecco, questa è indignazione perché noi sappiamo benissimo che nei paesi, non soltanto della Sicilia, ma nei paesi comunque, se uno fa uno stannuto si viene a sapere immediatamente. Figurati se a Mezzo Iuso potessero non sapere la situazione delle sorelle Napoli.